Salve amici e benvenuti ancora una volta a questi seminari Connessione con la Salute. In questi quattro programmi parliamo del glutine. Spero siate realmente interessati al programma per sapere di che cosa parleremo oggi, visto che precedentemente abbiamo lasciato in sospeso un concetto molto interessante riguardante il grano moderno e il fatto che abbiamo più di 25.000 varietà di grano oggi, che non esistevano 50 anni fa. Molte di queste varietà sono state create grazie ad un processo di ibridazione, ed ora, in questo programma che non dovete assolutamente perdere, vedremo in che modo queste nuove varietà, insieme allo stile di vita che stiamo adottando, stanno causando problemi di salute a molte più persone di quanto si creda. Questo programma si intitola Oltre l'intestino e la ragione di questo titolo sta nel fatto che quando parlo del grano o del pane o della pasta, eccetera, la gente dice «No, no, io non ho nessun problema, non sento nulla qui». Bene. Desidero che prendiate un bicchiere d'acqua e restiate in mia compagnia per quest'ora, per vedere se forse possiamo aggiungere qualcosa alla nostra conoscenza e al nostro sapere. Leggiamo insieme «Questi seminari sono progettati per condividere informazioni generali con il pubblico. Le informazioni presentate non devono essere interpretate o usate per il trattamento di casi individuali. Consultate un medico. In questo caso, in particolare, consultate un professionista della salute perché vi presenteremo numerose citazioni estratte da pubblicazioni mediche. Tra queste, alcune molto prestigiose, come la rivista accademica Lancet. Si potrebbe dire articoli appena sfornati. Questo significa che tali pubblicazioni mediche sono raccomandazioni dirette ai dottori. Consultatevi dunque con il vostro dottore e vedete se è al corrente delle ultime scoperte scientifiche riguardo a questo. D'accordo? Consultate quindi il vostro medico per vedere se è al corrente di quello che le ultime pubblicazioni, scientifiche e mediche, stanno pubblicando. Ogni dottore dovrebbe essere informato di questi temi. Questi sono casi di mutazioni. Qui potete vedere un cerbiatto con sei gambe, un maiale con due musi e un serpente con due teste. Sono casi di mutazioni. È chiaro che una mutazione può essere determinata da diversi fattori. Per esempio, se una donna incinta è esposta ad una radiazione come quella che avvenne a Chernobyl negli anni Ottanta. In seguito a questa fuga di radiazioni nucleari, per alcuni anni si ebbero incidenze di malformazioni nei bambini, nel bestiame, eccetera. appunto a causa dell'esposizione a tale radiazione. Quindi, quando abbiamo una donna incinta che è esposta a radiazioni o ad alcuni agenti chimici o che si trova esposta ad una condizione particolare, questo può causare una mutazione e il bambino può nascere con una malformazione. Può avere un dito in più o nascere senza braccia, eccetera. Sono casi di mutazione che si producono quando l'embrione è stato esposto a sostanze chimiche o a radiazioni. Bene. Come abbiamo visto nel programma precedente, uno dei modi in cui i nuovi ibridi di grano sono stati creati è attraverso l'esposizione dell'embrione del grano a diversi agenti chimici o addirittura a delle radiazioni. Per esempio, se io espongo un embrione del grano a un insetticida specifico e lo pianto, questo seme mi crea diverse varietà. Userò poi uno spray di questo stesso insetticida per impregnare tutte queste varietà di grano. Se tutte muoiono o meno una, il risultato è che ho una varietà che sopporta questo insetticida e non muore. Ma nel contempo, l'embrione è stato esposto ad un insetticida o ad un agente chimico o ad una radiazione. Quindi non stiamo parlando solo di ibridi, stiamo parlando di mutazioni. Quando si è cercato di creare questo ibrido, l'embrione è stato esposto a diversi prodotti chimici e radiazioni. Quindi non è solo un ibrido, ma è anche una mutazione. Se voi vivete in campagna e vostra moglie vi dice caro, abbiamo visite, vai ai campi, prendi un agnello. Bisogna prepararlo per cucinarlo da dare a pranzo agli ospiti. Voi andate al campo dove pascolano il vostro bestiame e le vostre pecore. Prendete questa bestia qui, alla sinistra. questo è un agnello che ha subito una mutazione, infatti ha due teste. Non è un fotomontaggio, è la realtà, è una mutazione. Tuttavia, qui a destra, abbiamo un ibrido e anche lui è stato esposto ad agenti chimici e a radiazioni. voi non mangereste mai questo agnello perché pensate se mangio questo agnello vado a finire con due teste. Tuttavia, quando tutti i giorni consumiamo in modo regolare, quotidiano e continuo un prodotto che è il risultato di un'ibridazione e di una mutazione, non abbiamo neanche la più pallida idea delle conseguenze che tale alimentazione può apportare al nostro organismo. Ma ora vi voglio mostrare le diverse reazioni al glutine e qui abbiamo le fonti dove potete verificare se necessario. Le diverse reazioni al glutine. Abbiamo un disturbo relazionato al glutine che si manifesta in tre aree principali. La prima è una reazione autoimmune. In altre parole, il corpo reagisce e cerca di difendersi invece di accettare quel prodotto che contiene glutine come se fosse un alimento. Il corpo reagisce creando degli anticorpi e cerca di appaccarlo. In casi gravi, quando c'è una reazione di anticorpi, dei linfociti T, la reazione può essere così grave che se non si agisce rapidamente la persona può morire. quando c'è la reazione di un anticorpo di classe G non sembrerebbe così grave. Sembrerebbe più facile da gestire, ma a volte si aggrava quando i sintomi sono ignorati. poi abbiamo la reazione allergica che si può manifestare in diversi modi. Per esempio, io sto ingerendo qualcosa e nel contempo sono allergico al polline. ma l'allergia al polline è causata solo fino a un certo punto dal polline stesso poiché l'allergia primaria è legata a un prodotto alimentare. In questo caso vediamo non una reazione autoimmune, allergica, ma una reazione istintiva nella quale il corpo rifiuta naturalmente quello che stiamo mangiando in modo istintivo, spontaneo. Nelle reazioni autoimmuni abbiamo la reazione celiaca e qui voglio illustrare e spiegarvi che quando le persone dicono di avere una reazione al glutine la prima cosa che ci viene in mente è tu sei celiaco ma questa è solo una delle reazioni associate al glutine. Un'altra reazione autoimmune che possiamo avere al glutine si manifesta con una atassia ad glutine cioè quando una persona non mantiene l'equilibrio e manifesta problemi di equilibrio. Problemi di equilibrio qualcosa che colpisce ogni giorno sempre più persone ma esiste una condizione chiamata atassia ad glutine e questa condizione è per definizione direttamente legata a una reazione di intolleranza al glutine. e poi esiste per esempio la dermatite erpetiforme di Düring che provoca vescicole o sintomi sulla pelle eruzioni cutanee sul viso per esempio possono essere simili all'acne o questi sintomi si possono manifestare tra le pieghe delle braccia o delle gambe eccetera sul dorso sul viso sono eruzioni cutanee della pelle dove si vedono dei grani sulla pelle che hanno una forma simile all'herpes nel contempo si può avere una sensibilità naturale al glutine non avviene un'allergia o una reazione forte semplicemente c'è una sensibilità è come se il vostro corpo vi stesse dicendo che sta meglio senza glutine che col glutine e una reazione allergica generalmente può essere una reazione allergica al grano ok ora desidero mostrarvi come questo succede esiste una reazione celiaca nell'1% dei casi in altre parole una persona su 100 che vive qui in Spagna negli Stati Uniti eccetera dicevo l'1% cioè una persona su 100 è celiaca a queste persone è stato diagnosticato che sono affetti da celiachia poi abbiamo anche il celiaco silente in altre parole sono persone che hanno dei dolori dei malesseri stanno avendo dei disturbi ma non sono stati in grado di diagnosticarne il motivo o perché non sono andati dal dottore o perché gli esami non l'hanno evidenziato queste persone sono dei celiaci silenti hanno una reazione al glutine ma non è stato possibile definire questo fatto in questo caso il celiaco silente non è stato definito o quantificato non sappiamo quanti celiaci silenti vi siano sappiamo che esiste un 1% diagnosticato ma non sappiamo quanti celiaci silenti e quanti celiaci potenziali esistano in altre parole i celiaci potenziali sono persone che stanno aumentando una sensibilità al glutine e che adesso stanno bene ma forse tra alcuni anni avranno una predisposizione a sviluppare una condizione celiaca stiamo parlando solo di quest'area e solo una persona su 100 è stata diagnosticata questo gruppo silente non è stato diagnosticato e neppure il gruppo di celiaci potenziali è stato diagnosticato abbiamo poi anche quest'altra area le allergie respiratorie quali sono le allergie respiratorie l'asma per esempio e gli studi sono molto chiari in merito infatti dicono che se una persona soffre di asma e sta consumando latticini quest'asma non guarirà mai ma ora sembra che i prodotti caseari abbiano trovato un alleato grazie al quale agiscono ancora più efficacemente l'asma è stata identificata in questi studi come legata al consumo di latticini e nel contempo essa si aggrava quando oltre al consumo di latticini si associa il consumo di glutine quindi abbiamo un'allergia respiratoria abbiamo un'allergia alimentare e cosa succede un'allergia alimentare che si aggiunge all'allergia al glutine vediamo quindi un gruppo di altri prodotti naturali che ci provocano un'allergia a causa dell'allergia primaria al glutine poi abbiamo l'allergia al grano chiamata anafilassi grano dipendente indotta dall'esercizio fisico in questa condizione la persona ingerisce prodotti con glutine e sta perfettamente bene a meno che questa persona dopo averli ingeriti non cominci a fare esercizio se rimane seduta e non fa esercizio sta bene la reazione allergica dipende da altre circostanze infatti l'allergia in sé dipende da altre circostanze per esempio uno dei casi molto evidenti è quando una persona ingerisce gli alimenti e poi fa esercizio qualcosa succede nel suo intestino tenue che causa una reazione poi abbiamo l'orticaria o orticaria da contatto nella quale si produce una reazione con un semplice abbraccio o una stretta di mano quando si dà la mano per salutare questo contatto produce un'irritazione negli Stati Uniti una persona su 100 è celiaca in Canada una su ogni 133 in Italia il paese della pasta 1 su 100 in Irlanda 1 su 100 in Australia da dove provengo io 1 su 100 in Inghilterra quasi il 2% tra l'1 e l'1,9 cioè quasi 2% siccome queste conferenze io le presento in Australia questi sono i dati che ho presentato a quel pubblico adesso che sto registrando le conferenze qui in Spagna volevo sapere qual è la percentuale in questo paese ecco la pubblicazione del mese di marzo il 27 marzo 2010 attualmente la malattia celiaca è la patologia cronica intestinale più frequente in Spagna e il titolo ci dice che questo avviene per una persona su 100 ed è come se questo risultato 1 su 100 si ripetesse 1 su 100 1 su 100 l'articolo l'ho tratto dal sito internet dell'associazione celiaca qui in Spagna secondo le statistiche attuali l'1% sono celiaci sintomatici ciò significa che ci sono sintomi evidenti per una diagnosi sulla condizione o sul disturbo della salute fino a 42 persone su 100 soffrono di questo tipo di problema quando è il momento di digerire il glutine stiamo parlando di quasi la metà notate bene fino a 42 persone su 100 un 42% soffre di qualche tipo di disordine alimentare al momento di ingerire il glutine se adesso facessi la domanda quanti di voi si sono resi conto che ogni volta che mangiano pane si sentono gonfi quando io faccio queste domande in Australia dove una persona su 100 è celiaca e dove abbiamo conferenze alle quali partecipano tra le 80 e le 100 persone per sessione quando faccio questa domanda approssimativamente la metà della gente alza la mano e conferma che si è resa conto che quando mangia qualcosa che contiene grano dopo 15 20 minuti sente come una specie di acidità e lo stomaco è percepito come se fosse più gonfio approssimativamente il 42% e non solo questo è il 42% di persone che si rende conto direttamente che qualcosa non funziona bene nell'intestino quando ingeriscono glutine ma nella presentazione del programma di oggi vi illustreremo che cosa succede al di là del nostro intestino nelle due foto sopra vediamo l'immagine interna della parte superiore dell'intestino tenue e poi una fotografia in color porpora con i villi intestinali questo tipo di villi sono un'opera magnifica della creazione nel quale questi piccoli peli hanno delle specie di pieghe pieghe qui e pieghe lì per aumentare la superficie di assorbimento sono questi i responsabili dell'assorbimento dei diversi nutrienti contenuti negli alimenti sotto in questa fotografia vediamo la parte superiore di un intestino tenue che è stato danneggiato nel suo tessuto a causa del consumo di glutine e nella foto corrispettiva vediamo come i peletti siano stati rasati come se non esistessero come se queste pieghe non esistessero molte volte le persone vengono da me a dirmi mi hanno detto che ho una carenza di magnesio quindi quello che dobbiamo ingerire è magnesio bene questo è vero fino a un certo punto perché se voi vi trovate in questa condizione qui nella quale il vostro sistema di assorbimento è danneggiato voi potete ingerire magnesio magnesio e magnesio ma gli organi responsabili per l'assorbimento del magnesio nel vostro corpo non esistono più in altre parole per illustrarvi meglio riguardo alla superficie dell'intestino tenue con questi peletti se noi riuscissimo a prendere ognuno di questi e a estenderli come su una tovaglia aperti come su una tovaglia copriremo una superficie maggiore di quella di un campo da tennis tutta questa superficie dovrebbe stare nella parte superiore del vostro intestino a partire dal duodeno per l'assorbimento dei nutrienti tutta questa superficie è l'equivalente di un campo da tennis quindi quando io sto mangiando alimenti ho un campo da tennis che sta lì per assorbirli ma quando questa zona è danneggiata passo da un campo da tennis ad un tavolo da ping pong e quando cerco di assorbire dei nutrienti nel mio organismo senza avere la superficie necessaria per assorbirli molti di essi passano liberamente perché la capacità di assorbimento non esiste e che cosa causa questo danno? come arriviamo ad avere questo danno? questo è il glutine che tra le altre cose è formato da due proteine chiamate gliadina e glutamina nei minuti seguenti ci concentreremo sulla gliadina che è uno dei componenti del glutine e uno dei componenti importanti di questi grani ibridi odierni la gliadina la gliadina causa una reazione immunologica in tutti gli individui questo elemento importante questa proteina importante che è stata molto aumentata che ha preso una capacità centrale nei grani ibridi odierni causa una reazione immunologica in tutti gli individui questo significa che quando voi state mangiando un ingrediente che contiene questa proteina la gliadina il corpo reagisce si mette in allerta che cosa è questo che sta entrando trattandosi di cibo il corpo non dovrebbe stare in guardia con i pugni alzati pensando che cosa è che si sta ingerendo si è scoperto che questa classe di proteine crea permeabilità intestinale immaginiamoci che queste dita siano le diverse cellule epiteliali del vostro intestino tenue il loro compito è quello di permettere l'accesso ad alcuni elementi nel vostro sistema sanguigno di forzare l'accesso nel sistema sanguigno di altri elementi e di impedire l'accesso nel vostro sistema sanguigno di certi altri elementi quindi permette a certi elementi di entrare forza alcuni elementi ad entrare mediante vari metodi di trasporto e blocca o trattiene altri elementi affinché non entrino quando la gliadina produce permeabilità intestinale e una reazione immunologica si crea una specie di infiammazione quando la distanza tra le cellule epiteliali aumenta ci sono degli elementi che possono entrare nel sistema sanguigno però normalmente questi elementi non avrebbero dovuto avere accesso questa è una delle reazioni che la gliadina può generare nel nostro corpo causa permeabilità intestinale e nel contempo possiede proprietà farmacologiche in altre parole ha la capacità di reagire con il nostro sistema ormonale e causare dei cambiamenti farmacologici questo lo analizzeremo in seguito la digestione della gliadina produce un peptide che ha 33 aminoacidi di longitudine e che si conosce come il 33 mer che cosa è questa catena di proteine permettetemi di mostrarvelo con un'illustrazione per capire per sommi capi in modo semplice l'assimilazione degli aminoacidi nel corpo immaginate che la parete che ho qui a lato sia una parete di mattoni una parete di mattoni quindi abbiamo i mattoni i diversi blocchi e tra mattone e mattone abbiamo il cemento immaginiamo anche che ogni mattone abbia un colore ha un colore diverso e a volte questo colore si ripete e quando sono ordinati in questo modo con il cemento in mezzo formano una proteina può essere una proteina del glutine può essere una proteina del muscolo di un animale una proteina della carne può essere un'altra proteina qualsiasi tipo di proteina che sia derivata dagli alimenti quindi è strutturata in una forma specifica quando per esempio è di derivazione animale voglio che immaginate che questo muro oltre ai mattoni abbia il cemento spalmato sopra poi dell'intonaco quindi della pittura ma se la proteina che arriva è di origine vegetale non ha il gesso né la pittura né il cemento che lo ricopre ma semplicemente il muro con i mattoni e il cemento tra i mattoni ok io ingerisco questa proteina perché il corpo ha bisogno di aminoacidi per svolgere le funzioni vitali ad esempio l'insulina è una proteina ma essa non assomiglia a questa proteina con la quale mi sto alimentando immaginiamoci che l'insulina abbia la forma di questo tavolo io ho bisogno di fare questo tavolo con gli elementi che formano la proteina ovvero gli aminoacidi quindi che cosa succede io consumo questa proteina con i miei alimenti nello stomaco attraverso la gastrina ed il pH eccetera quello che succede è che il cemento esterno si toglie e si inizia ad ammorbidire il cemento che unisce ogni blocco ogni mattone ricordate che ogni mattone ha un colore diverso e a volte i colori si ripetono intanto che il cibo arriva al duodeno ci sono enzimi responsabili di raccogliere questi blocchi e di isolarli quindi quando il cibo è nel duodeno la parete o il muro non dovrebbe più esistere il vostro sistema digestivo deve essere in grado di isolare i materiali che formano il muro ma il muro in sé non deve più esistere in altre parole ora abbiamo i blocchi che formavano i muri gli aminoacidi sono i blocchi che formano la proteina quindi io mangio questa proteina il mio stomaco inizia a togliere il cemento che riveste il muro e inizia ad ammollare il cemento tra i blocchi e il duodeno inizia a separare tutto questo in singoli elementi perché? perché il mio corpo quando questi blocchi sono stati assorbiti il mio corpo ha bisogno di questi blocchi per formare altri tipi di proteine ad esempio i singoli elementi servono per formare l'insulina il corpo quindi prende questi blocchi ed inizia a costruire un tavolo cosa succede quando questa proteina non può essere digerita o predigerita nel mio stomaco? arriva al duodeno e invece di essere composta da singoli blocchi così che sia possibile al duodeno semplicemente separare tali blocchi o mattoni e immagazzinarli questa proteina arriva così dura che invece di avere i singoli mattoni mi ritrovo con pezzi di muro muri lunghi o pezzi di muro di forme diverse questi pezzi di muro mi stanno condizionando stanno dettando il tipo di proteina che io posso produrre se io ho dei pezzi di muri lunghi non sono in grado di comporre questo tavolo poiché questa è la struttura di cui ho bisogno e per farla devo avere dei blocchi piccoli quelli che la formano e non proteine interi o pezzi di proteine quindi tecnicamente il corpo dovrebbe lasciar passare questi pezzi e dire non sono in grado di usarli il problema è che la gliadina permette la permeabilità intestinale l'abbiamo menzionato in precedenza come risultato abbiamo blocchi di proteina totalmente formati solo spezzettati qui o là sono pezzi di proteina ma non sono i singoli aminoacidi sono le combinazioni proteiche complete alle quali viene adesso permesso di entrare dentro al sistema sanguigno a causa della permeabilità che si è creata nell'intestino tenue adesso stanno entrando nel nostro sistema sanguigno non come aminoacidi ma come blocchi interi catene o parti di proteine o peptidi qual è il problema bene ecco ne abbiamo una qui che come dicevamo prima è conosciuta con il nome di 33 mer significa che ha 33 aminoacidi in una combinazione particolare di colori e quando questa catena entra nel corpo produce una reazione immunologica in altre parole siccome non dovrebbe entrare il corpo si sveglia e dice ops questo devo attaccarlo quindi immaginiamoci che questa è la catena 33 mer che non è stata rotta il corpo genera un anticorpo che si aggancia alla catena di proteine 33 mer e quindi cerca di disfarcene il problema è che la 33 mer ha un'omologia in altre parole assomiglia molto un'omologia notevole alla sequenza interna della pertactina una sequenza immunodominante nel batterio bordetella pertussis meglio conosciuto come tosse asinina canina o pertosse in australia si chiama whooping cough pertosse o tosse canina e il sistema di vaccinazione australiano vaccina i bambini i neonati contro la whooping cough o la pertosse ciò nonostante quando li portano all'asilo moltissimi bambini vengono contagiati e soffrono delle conseguenze avverse della pertosse ma come può succedere se sono già stati vaccinati quindi attraverso gli alimenti abbiamo una catena la 33 mer la cui combinazione di aminoacidi assomiglia molto alla pertosse allora quando il nostro corpo sta costruendo anticorpi per combattere la 33 mer può costruire anticorpi anche per la pertosse ma se noi stiamo continuamente continuamente e continuamente ingerendo alimenti che portano la 33 mer nel corpo arriva il momento in cui il corpo non si sente più minacciato e dice ah no questa è quella del pane la 33 mer non è il batterio della pertosse è quella del pane quando poi arriva veramente il batterio della pertosse il corpo non lo riconosce e dice ah sì è quella del pane quando invece non lo è non so se qui in Spagna i neonati si vaccinano contro la pertosse ma in Australia lo fanno ciò nonostante tutti conoscono qualche bambino che ha sofferto di pertosse il fattore della lectina che non è la lecitina la lectina leggiamo qui la creazione selettiva degli ibridi ha fatto del germe di grano qualcosa che non può essere rotto dagli enzimi digestivi di molti individui la lectina o come meglio conosciuta il germe di grano è una proteina che è preposta a prevenire che una specie ad esempio di piante si estingua è una specie di insetticida naturale tutti i prodotti hanno un livello di lectina il pollo ha la lectina l'uovo ha la lectina gli animali hanno la lectina le piante hanno la lectina la lectina è una specie di sicurezza contro l'estinzione in altre parole abbiamo una varietà di piante gli insetti vanno su di esse se le mangiano ma mai fino al punto di estinguerle perché grazie alla lectina infatti è un insetticida naturale che come dicevamo è presente nel pollo nelle uova negli animali eccetera è una specie di sigillo di autoprotezione anche nell'antichità i vari tipi di grano avevano la lectina in quei tempi il contadino mieteva e raccoglieva il grano per sé il grano destinato al consumo ma non era tutto raccolto il grano destinato al consumo lasciava che i poveri spigolassero quello che rimaneva sul campo oggigiorno quello che hanno fatto con i nuovi ibridi è stato di creare un livello molto molto alto di lectina in altre parole livelli molto alti di questa specie di insetticida creando questi livelli così alti di insetticida gli insetti non se li mangiano allora queste nuove varietà sono progettate perché gli insetti non le mangino come facevano nell'antichità adesso non condividiamo il grano né con i poveri né con gli insetti quindi gli insetti non lo mangiano più ma noi si sapevate che uno degli elementi presenti negli spray per uccidere le mosche e gli scarafaggi è la lectina è un insetticida naturale che si utilizza nella vendita commerciale degli insetticidi che tutti possiamo avere in casa la lectina questa glicoproteina è responsabile del diretto deterioramento degli intestini senza produrre una risposta immunologica evidente in altre parole crea un danno ma non c'è una risposta immunologica evidente non è facile da discernere per questo motivo si dice che la lectina con la sua incursione nel sistema sanguigno è in grado di causare degli effetti ad organi distanti nel nostro corpo ossia potete non avere nessuna reazione qui ma averne di un altro tipo qui potete avere un'artrite qui o una nevralgia qui e non avere nulla a che fare con il vostro intestino perché lì non si trova nulla non c'è evidenza non esiste alcuna evidenza nell'intestino The Lancet la pubblicazione medica raccomandata a tutti i dottori una delle pubblicazioni più prestigiose e antiche che esistano sul pianeta dice in un articolo recentissimo per migliorare il livello delle diagnosi la convinzione medica secondo la quale la sensibilità al glutine è una malattia che colpisce esclusivamente l'intestino deve essere cambiata la raccomandazione fatta ai dottori è la seguente se qualcuno viene da voi con un dolore e nello stomaco non c'è nessun tipo di sintomo non pensate che non ci sia una connessione con il glutine anche se non c'è una chiara evidenza nell'intestino ciò significa che benché la biopsia sia negativa benché il test di intolleranza alimentare LGG mediata sia negativo e la lettura degli anticorpi sia negativa malgrado tutto questo non eliminate la possibilità che questa persona stia manifestando una reazione al glutine anche se non presenta sintomi visibili nell'intestino bisogna cambiare la diagnosi bisogna pensare che non si tratta solo dell'intestino ve le leggo la citazione un'altra volta perché è importante essere coscienti di questo fatto quando consultiamo il nostro medico per migliorare il livello di diagnosi la convinzione medica secondo la quale la sensibilità al glutine è una malattia che colpisce esclusivamente l'intestino deve essere cambiata ricordate che la percentuale dei celiaci è solo dell'1% The Lancet sta dicendo che dobbiamo migliorare le nostre diagnosi perché abbiamo individuato solo l'1% ma sospettiamo che ci siano molte più persone che soffrono di intolleranza al glutine e non siamo in grado di diagnosticarla poi c'è una serie di condizioni che sono già state identificate come possibili disturbi o patologie connesse al glutine soffrite di mal di testa molto spesso? nervosismo emicranie nausee stitichezza acidità afte epilessia le afte sono quelle febbri che escono in bocca epilessia tengo a precisare che gli studi indicano che ci possono essere altre cause per l'epilessia che una reazione al glutine non è l'unica causa ma tenete presente che questa può essere la causa o uno dei fattori non dice che il mal di testa regolare sia causato dal glutine può essere che siate distrutti allergica nei diversi individui può essere in un modo e può essere in un altro ulcera gastrica dolori addominali una persona mi disse guarda Oscar io sono andato dal dottore mi sono fatto il test di intolleranza alimentare lgg immediata quello degli anticorpi e il risultato è stato negativo e gli rispondo e quando mangi pane cosa succede? ah no se mangio pane mi gonfio allora qual è la prova? qual è la prova che è realmente valida? il test di intolleranza alimentare lgg immediata o il fatto che quando la persona mangia si gonfia dolori alla cistifellea instabilità emozionale faccio un commento in relazione alla stabilità emozionale una persona può passare attraverso circostanze diverse nella sua vita può darsi che la persona non sia in grado di cambiare queste circostanze e gli studi dimostrano e assicurano che il glutine forse non è la causa dell'instabilità emozionale ma se voi state vivendo un periodo stressante in questo caso considerate che il glutine può contribuire a peggiorare la situazione colite stanchezza anormale indigestione vomito flatulenze nause reflusso bruciore di stomaco quando parliamo di colite così come quando parliamo della malattia di Crohn recentemente mi hanno raccontato una storia molto triste a una delle mie conferenze venne una madre con sua figlia e alla figlia erano stati asportati ben 17 centimetri di intestino perché le avevano diagnosticato il morbo di Crohn io le chiesi qualcuno ti ha mai parlato del latte e lei disse no qualcuno ti ha parlato dei prodotti caseari no qualcuno ti ha parlato del glutine no amici qualcuno ha un'infiammazione nell'intestino tenue nell'intestino crasso e nessuno gli ha mai chiesto che cosa mangi non è forse quello che stai mangiando che ti crea tutto questo disturbo è una vergogna sto cercando una parola un po' più diplomatica ma non la trovo è una vergogna è una vergogna perché ci deve essere un collegamento con il cibo questi organi sono associati direttamente al cibo e mi meraviglio che nessuno abbia mai chiesto a questa giovane che cosa mangiasse che nessuno abbia cercato di cambiare la sua alimentazione perché forse quello che mangiava era la causa di quella infiammazione è una vergogna questa giovane vive con 17 centimetri in meno di intestino e possibilmente la causa che ha creato questa infiammazione non è ancora stata rimossa colite la stessa cosa è con le coliti prima domandiamoci se io sto avendo problemi di ulcera allo stomaco non è il caso di analizzare che cosa sto mangiando prima di farmi operare nevralgia abbiamo già parlato precedentemente della atassia ad agglutine e in questo caso si evidenziano problemi nel sistema nervoso con infiammazione dei nervi eccetera sinusite un giovane con una sinusite molto forte parlava come se avesse le narici chiuse lasciò i latticini e il glutine e la sinusite se ne andò ipertensione e orticaria come dicevamo prima anch'essa viene identificata come una possibile reazione al glutine problemi alla pelle due giovani sorelle due belle ragazze che vivono a Brisbane una di 19 anni e l'altra di 18 molto belle ma i loro visi erano danneggiati dall'acne da questo tipo di reazione della pelle abbandonarono i latticini non mangiavano già la carne ed abbandonarono il consumo di prodotti caseari e il glutine il viso fu ripulito ma oltre a questo una delle giovani quella di 19 anni mi chiamò e mi disse non solo il viso è guarito dall'acne e la pelle è diventata liscia ma i mal di testa sono spariti lei era molto preoccupata per questi dolori alla testa che aveva tutti i giorni più che di qualsiasi asma emorroidi depressione perché le emorroidi? chiaro perché se il glutine sta causando la stitichezza vi raccomando di vedere gli altri seminari in programmazione connessione con la salute la digestione per approfondire di più questo tema depressione una signora che abita nella regione dell'East Victoria nel villaggio australiano di Moy era in lista per essere ricoverata in un ospedale psichiatrico con una prescrizione del dottore ascoltò i seminari sul glutine seguendone i consigli per due settimane due settimane prima ad essere ricoverata dopo due settimane si sentì così bene aveva tolto il glutine al 100% si sentì molto bene molto più positiva di prima andò dal dottore e gli chiese di poter estendere la cura ancora per quattro settimane perché aveva sentito parlare di una sfida cioè stare sei settimane senza glutine e di vedere che cosa succedeva estese la cura ancora per quattro settimane e oggi dopo nove mesi non è ancora entrata in quella clinica io non dico che una persona è depressa a causa del glutine sto dicendo che viviamo in una società dove abbiamo sufficienti motivi per cui deprimerci e il glutine in questo caso può contribuire in casi specifici diabete dolore al petto emorragia digestiva perdite di sangue dal naso perché? perché se il nostro intestino è ammalato quando il nostro intestino è ammalato la vitamina K che ha qualità anticoagulanti per il sangue non viene prodotta correttamente dai batteri che devono farlo perché i batteri responsabili stanno soffrendo non sono sufficientemente numerosi e non creano la vitamina K come dovrebbero farlo quindi si presenta un problema di coagulazione questa era una delle ragioni una delle cause per cui mia moglie già da piccola quando era piccola soffriva di sanguinamento al naso ha smesso di mangiare il glutine infatti lei non mangia nessun tipo di prodotto con glutine e da quando ha smesso non ha più sanguinato dal naso ovviamente non consuma neanche latticini e nemmeno mangia carne ma quello che realmente diede una svolta alla sua salute fu quando alla fine tolse l'ultimo impedimento tolse altri ostacoli la carne i latticini ma le restava un ultimo impedimento tolse il glutine ed ora è una donna nuova vi parlerò più di lei nell'ultimo seminario infertilità c'è molta gente e ci sono studi riguardo a questo e se voi avete problemi di infertilità vi raccomando di andare su internet non sul motore di ricerca google normale mandate su google scholar la ricerca google in pubblicazioni accademiche perché quando voi entrate su google scholar e scrivete la parola infertilità glutine gli unici risultati che appariranno saranno articoli scientifici e medici non troverete risultati come il sito internet di un hippie che ha messo lì la sua opinione troverete articoli scientifici e medici quindi collegatevi a google scholar e qualsiasi cosa cercherete su google scholar sarà tratta da pubblicazioni mediche e scientifiche se avete problemi di infertilità non dico che il glutine sia l'unica causa tantomeno lo dicono gli studi ma questi ci assicurano che se la persona ha una reazione al glutine una delle conseguenze può essere non nell'intestino ma associata con l'infertilità anemia perché? perché ora siamo passati da un campo da tennis a un piccolo tavolo da ping pong quindi non abbiamo la stessa capacità di assorbimento intestinale assorbimento non solo del ferro assorbimento del calcio del magnesio e di molti altri elementi che sono vitali per la nostra vita deficienza di vitamina B12 indovinate dove si assimila e si riassorbe la vitamina B12 nell'intestino e se il vostro intestino è danneggiato questo crea una mancanza di vitamina B12 deficienza di acido folico disturbi dell'alimentazione la sindrome dell'iperattività nei bambini e il deficit di attenzione desidero raccontarvi questo sei mesi fa nel villaggio di Colac nel Western Victoria in Australia una madre con sua figlia di otto anni venne da me dopo aver visto questi seminari e mi disse io sono venuta qui per avere la certezza che la decisione che ho preso con mia figlia sei mesi fa è quella giusta mandavo mia figlia a scuola e finalmente la professoressa mi disse signora deve portare sua figlia dal dottore perché le prescriva qualcosa e le disse che sua figlia aveva un deficit di attenzione e iperattività quindi le consigliò di andare dal medico per farsi prescrivere dei farmaci la madre andò a casa piangendo come posso dare dei farmaci a mia figlia ha solo otto anni fece un test chiamato Alcat test mediante questo test viene effettuata una diagnosi di intolleranza alimentare infatti risultò una serie di elementi che potevano indicare che sua figlia fosse allergica questo test è abbastanza costoso ma la madre era talmente disperata che pagò circa 800 dollari australiani per fare il test completo questo esame non è sicuro al 100% ma il test diede un indizio alla madre la colazione che questa mamma preparava per sua figlia consisteva in alcuni biscotti di grano con latte vaccino di mucca e un succo d'arancia quando ricevette i risultati del test in rosso era evidenziato sua figlia è allergica al grano allergica al glutine allergica ai latticini e anche al succo d'arancia proprio gli elementi della sua colazione questa bambina faceva colazione con questi alimenti e poi andava a scuola e la professoressa e non c'era nessuno che la sopportasse se io adesso do a questa bambina dei farmaci e non sto correggendo quello che la sta danneggiando permetto che questa bambina cresca con un complesso enorme quando io ero piccolo mi chiamavano tre occhi perché avevo un occhio strabico e mi mettevo gli occhiali che mi coprivano un occhio e quindi io ero un tre occhi e così mi chiamavano gli altri bambini a scuola ma ora sono i dottori che dicono ai bambini tu hai una patologia sei strano sei insolito questa bambina con quattro settimane senza glutine e senza farmaci senza latticini e senza il terzo elemento che era una conseguenza delle due allergie primarie senza il succo d'arancia era diventata una bambina normale io la guardai e le dissi sai una cosa tu non sei malata non ingerire quello che ti fa ammalare e starai perfettamente bene se siete affetti da celiachia e in questo momento mi state ascoltando voglio dirvi una cosa voi non siete ammalati se non mangiate il grano se non mangiate glutine voi state perfettamente bene potete vivere una vita completamente normale il problema è che pretendiamo che tutti mangiamo lo stesso che ci piacciono le stesse cose che ci vestiamo in modo uguale che parliamo allo stesso modo che viviamo la stessa qualità di vita che abbiamo lo stesso tipo di lavoro e la stessa automobile ma siamo individui totalmente diversi con genituri diversi antenati diversi se il vostro corpo non tollera il glutine lo togliete e starete perfettamente bene dobbiamo finire di dire alla gente che è malata quando non lo è la chiamiamo malattia celiaca i celiaci ci stanno avvertendo di questo consumo di grano talmente diffuso sul nostro mercato sono grani ibridi invece di ringraziarli per aver suonato l'allarme diciamo loro che sono strani ed ammalati però se non ingeriscono questi prodotti sono totalmente sani se siete allergici al pomodoro sapete come togliere l'allergia? non mangiate il pomodoro e l'allergia sparisce ah no ma io voglio mangiare il pomodoro però tutti siamo diversi e se il suo corpo reagisce male al pomodoro e lei vuole essere sano non si tratta di arrivare ad una condizione dove possa mangiare il pomodoro per restare sano nel suo caso si deve togliere il pomodoro e la stessa cosa si deve fare con il glutine autismo il 100% dei bambini affetti da autismo non possono digerire il glutine ed il loro corpo reagisce negativamente al glutine il 100% se voi conoscete qualcuno che ha un figlio autistico questo bambino deve eliminare i latticini e il consumo di glutine incluso pasta, pane, eccetera e deve fare una dieta alternativa al 100% diabete di tipo 1 ipertiroidismo ipoparatiroidismo disturbi infiammatori intestinali alopecia areata significa che una persona perde i capelli molti perdono i capelli per cause genetiche ma quando non è genetica è generata da una reazione alimentare canizie premature molti hanno una predisposizione alla canizie prematura ma anche molte canizie premature provengono da una reazione alimentare invecchiamento prematuro cattivo assorbimento deficienza minerale malattia di Crohn lesioni allo smalto dentale incapacità intellettuale dermatite erpetiforme di During diarrea cronica malattie renali lupus desidero che pensiate un po' a quello che avete appena ascoltato e desidero anche invitarvi ad ascoltare il quarto programma non perdetevelo mi ricordo coi no no Grazie a tutti.